ciao a tutti ragazzi da 100% ciociaro comincia la stagione ufficiale del frosinone arriva purtroppo una sconfitta in coppa italia contro il monza però un frosinone che ha giocato bene ha avuto modo di provare schemi che magari con le amichevoli potevano non essere così collaudati però ecco è stato un test importante in vista poi dell'inizio del campionato domenica contro il modena frosinone che si conferma squadra giovane cambiano alcuni interpreti e in più abbiamo come giocatore di esperienza lì dietro lucioni arrivato in prestito da legge che sicuramente ci darà una grande mano in più poi vabbè sta ritrovando anche un giocatore come rhodien che negli ultimi periodi non ha brillato molto però sono sicuro che marcus ci darà un grande contributo e lì davanti sto vedendo un caso che mi sta piacendo molto tanta qualità passo visione per i compagni secondo me sarà il jolly assoluto di questa stagione del frosinone che gioca bene dicevo però poi nelle due uniche situazioni in cui staccato un attimo la testa a causa dei due rigori la prima con e che va troppo di irruenza sull'avversario al limite dell'area causando il rigore che poi segnerà valoti e poi oiono che si trova il pallone addosso molto velocemente lo perde e poi va a commettere fallo sull'avversario il secondo rigore lo segna caprari e quindi sembrava ecco già terminata la partita nel primo tempo però poi il frosinone è sceso nel secondo tempo convinto dei propri mezzi e ha continuato a giocare come aveva fatto il primo tempo tanta intensità pressing alto e voglia voglia di fare prima su un'azione di caso partita mi sa da lucioni però lucioni per caso caso serve audi audi carica il tiro la prende però poteva forse fare anche un po meglio sul tiro però trova la deviazione di un difensore del monza e la palla va in rete una due e poi poco dopo l'azione di calcio d'angolo la prende un difensore del monza la palla arriva però nei pressi di cone che si fa riscattare e scarica una botta in porta segnando il 2 a 2 cone che ha fatto se togliamo poi quella quell'azione troppo erruenta del calcio di rigore ha fatto una partita molto buona tra l'altro nel primo tempo è anche impegnato cranio con un tiro dal limite però ripeto un frosinone molto convinto che ha ha cercato di sfruttare tutte le possibili situazioni che si potevano creare moro lì davanti si è mosso bene però in alcune situazioni poteva fare scelte diverse invece magari di servire il compagno poteva provare a tenerla però lì sono condizioni che vanno limate poi durante tutto il campionato oiono ha fatto per esempio anche lui come cone una partita un po strana in certe situazioni sembrava molto sul pezzo in altre meno però anche lì bisogna lavorare siamo una squadra al giovane e dobbiamo semplicemente mantenere la lucida in determinate situazioni e poi sono sicuro anche lì al centrocampo Boloca quest'anno farà il salto di qualità definitiva se devo dire una cosa che mi dispiace che lì davanti ci affideremo durante tutto il campionato praticamente a ragazzi probabilmente dal futuro rosio però un giocatore come parsi check che quest'anno è ritornato secondo me poteva essere molto utile probabilmente verrà ceduto una possibilità della validata perché comunque è un giocatore che ha giocato dappertutto e ha sempre segnato non gli dai la possibilità di esprimersi ecco questo mi da un po un po fastidio però possono essere queste sono scelte societarie magari non so grosso non lo vede però secondo me poteva fare comodo anche come uomo spogliatoio ripeto adesso dopo il 2 a 2 da un'azione del Monza arriva il gol di Kitkir che con il Monza che sfrutta il fatto che Boloca è scivolato e Lucioni si perde Kitkir perché lo lascia praticamente andare indietro e il danese poi va a segnare il 3 a 2 e sul finale lo stesso Lucioni poi prova il colpo di testa del possibile 3 a 3 ma manca lo specchio Fosinoni che adesso affronterà il Modena al Braglia per la prima di campionato e penso che vedremo una bella partita anche scoppiettante come azione per questo video è tutto mi piace e noi ci vediamo dopo la prima di campionato Modena a Fosinoni ciao